riprendiamo questo questo ciclo su mille platò passando al piano anno zero viseita piano anno zero chiaramente ci deve ci deve far capire subito che richiama chiaramente in modo esplicito la figura del cristo l'anno in cui la storia riparte è un anno in cui si deve fare i conti con quello che sarà un grande volto il volto della passione il volto della sofferenza il volto del perdono il volto della morte il volto della risurrezione insomma il volto che apre a tutta quanta una serie di codici e codificazioni fondamentali è un piano molto bello questo complesso però penso che dia molto e che riformuli attraverso una configurazione diversa da quella utilizzata per la linguistica sul volto la stessa struttura che avevamo già visto in postulati della linguistica ad esempio dove abbiamo delle strutture rigide e però nello stesso tempo delle linee di frattura dove accade qualcosa accade qualche evento e questo fa sì che ci si apra si apra a ad un incontro di tipo diverso allora i punti fondamentali su cui bisognerà dire qualcosa ma che sintetizzo più o meno subito per averli ben presente e e poi appunto sviluppare qualcuno chiaramente non tutti ma ripetiamo queste sono delle micro analisi che invitano a leggere il testo e non sono sostitute del testo sono più o meno questi ecco i punti il viso non è un involucro esterno come invece potrebbe apparire la viseità o la viseificazione a seconda poi di come lo si vuole tradurre è una macchina intesa come produzione sociale di viso produzione sociale di viso diranno ad un certo punto il viso è politica allora così come per la linguistica avevamo dei parametri in questo caso quali sono il muro bianco e il buco nero queste sono le forme di codificazione di questo piano attraverso il muro bianco e il buco nero si impone una scacchiera il muro bianco serve per inchiodare il buco nero serve per catturare cosa fa il buco nero cattura la luce attira la luce a sé poi non sempre la viseità è stata attiva come in questo in questo tempo soprattutto dall'anno zero diciamo così ma in realtà parte anche da prima c'erano società del corpo e non del volto del viso poi sul corpo non è possibile far passare la codificazione del significante e del soggettivo ma questo può accadere significante soggettivo accadono solo nel viso nella viseificazione e poi questo è un altro punto che in parte smonta quei miti del delese come mera deterritorializzazione eccetera eccetera perché appunto la deterritorializzazione non è sempre positiva non è sempre assoluta soprattutto ci sono delle deterritorializzazioni relative e ci sono delle deterritorializzazioni negative ad esempio la deterritorializzazione del corpo a vantaggio di una riterritorializzazione sul viso quindi qual è il punto di tutto questo che non è che si tratta di negare il muro del significante che non si può tornare indietro a quelle società pre viseificate alle società del corpo no ma bisogna anzi utilizzare il muro del significante per far passare delle linee di insignificanza e quindi di fondo il viso come orrore però con i suoi pori i suoi buchi e con il suo primo piano inumano ma vedremo che l'inumano è proprio il carattere dell'umano cioè l'umano per poter esistere nel mondo ha bisogno di inumanizzare diciamo così se stesso di alienare se stesso di rendere il mondo qualcosa di inumano il mondo così come lo conosciamo noi oggi è qualcosa di inumano se stiamo ad un concetto di umano naturale privo della presenza dell'uomo il mondo non muta mai come quando muta quando ci sarà l'uomo quando comparirà l'uomo però nello stesso tempo è proprio questo inumano che ci permette di essere quello che siamo allora giusto per partire riprendiamo un attimo quel famoso seminario su foco abbiamo detto che il sapere era formato da quadri di visibilità e denunciati che si intrecciano sono gli intrecci intrecci dei quadri di visibilità e degli enunciati che formano che cosa lo strato ma lo stesso strato è intrecciato e fa sì che possa esserci una sorta di treccia e quindi c'è bisogno di due assi diciamo così che si incontrano e si intrecciano quindi c'è sempre bisogno di una stratificazione dicevamo quindi tanto per i quadri di visibilità che per gli enunciati per il sapere eccetera eccetera che si intreccia e che procede a due a due la stratificazione del sapere e quindi sempre doppia nello stesso tempo abbiamo detto che le semiotiche questo abbiamo detto nel piano precedente non sono mai pure ma sono sempre miste incontrano sempre altre semiotiche non sono sempre agganciate in alcuni incroci in questi incroci in questi incontri di incroci in questi incroci di incontri anche di raccordi avviene il montaggio di un nuovo dispositivo avviene un montaggio il montaggio di un dispositivo molto particolare che anche in questo caso funziona come una doppia pinza il montaggio di questo dispositivo particolare è il viso la viseificazione e la doppia pinza abbiamo già detto è il muro bianco ed il buco nero abbiamo quindi il muro bianco dove si scrive necessariamente la significanza quindi il muro bianco avrà a che fare con la significanza o la significazione che si scrive grazie ai suoi segni e le sue ridondanze e poi abbiamo il buco nero buco nero invece dove si insedia la soggettivazione la coscienza la passione ed anche qui la sua ridondanza allora penso che sia chiaro questo il procedimento è proprio quello che avevamo incontrato con il sapere intreccio intreccio i due assi quadri di visibilità e denunciati in questo caso la costituzione di un nuovo dispositivo che si installa che è la viseificazione richiede anche in questo caso una doppia pinza il muro bianco e il buco nero il muro bianco ha a che fare con la significazione la significanza il buco nero ha a che fare con la soggettivazione con la coscienza e entrambi operano per effetti di ridondanza allora dicevamo anche proprio all'inizio che il viso non è un involucro esterno come dicono Deleuze e Guattari non è un accessorio il viso non è qualcosa che se c'è e se non c'è non è che cambi molto no senza il viso la forma del significante che abbiamo ricordiamo un attimo anche il corso sull'antiedipo tutto il problema del significante che tutto quanto si inginocchia al significante da è chiaro che da un certo dall'anno zero in poi mettiamola così non è proprio così ma mettiamola così per capirci dall'anno zero in poi tutto quanto si inginocchia al significante tutto si flette nel significante tutto si raccorda nel significante tutto si installa nel significante tutto viene codificato nel significante che questa forma del significante dall'anno zero in poi non è così ma abbiamo detto facciamo finta che sia così non è proprio così dall'anno zero in poi questa forma del significante senza la viseificazione resterebbe indeterminata se non si orientasse il tutto verso il viso quindi quando diciamo che il viso non è un involucro esterno significa che i tratti significanti sono sostanzialmente ancorati a specifici tratti di viseità ok quindi per far sì che possa esserci significante c'è bisogno che questi tratti di viseità trovino una sola una giustificazione all'interno del significante questo significante resterebbe vuoto allora in primo luogo dell'ese guattari quindi fanno del volto qualcosa che chiaramente non ha a che fare ma questo questo capita sempre con dell'ese non è il volto così come lo intendiamo noi e quindi c'è bisogno di 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 porre qualche domanda a quale volto stanno facendo riferimento ecco il volto a cui fanno riferimento dell'ese guattari non è un volto individuale non è il volto di uno specifico individuo ma il volto come zona di frequenza come zona in cui potrebbe accadere una determinata configurazione una determinata codificazione i visi concreti che però poi ci sono perché ci sono i visi concreti se mai poi vedremo qualcuno bene questi visi concreti nascono appunto da una macchina stratta di viseità che li produrrà dando al significante un muro bianco dove potrà iscrivere i suoi segni e nello stesso tempo un buco nero dove far passare la soggettivazione la coscienza allora io penso che deve essere chiaro questo movimento abbiamo macchina stratta di viseificazione che ha bisogno del muro bianco per iscrivere segni significazioni e significanza e nello stesso tempo un buco nero dove far passare soggettivazione e coscienza e quali sono quali sono queste percezioni della viseificazione del volto di questo schermo bianco e degli occhi come buco come buchi neri e beh ce ne sono diverse in realtà ne vedremo diverse quali sono quante sono in realtà non si può dare un numero specifico e nello stesso tempo però nello stesso tempo però si può astrarre si può iniziare a ragionare no su queste su questa su questa doppia pinza di cui abbiamo parlato e di come ad un certo punto si installi questo dispositivo c'è stato un tempo in cui non c'era il volto per come lo intendiamo dall'anno zero in poi commettiamola così e dove la testa avevamo la testa che era parte del corpo la testa era corpo il viso non è corpo e attenzione questa è un'altra differenza fondamentale la testa è corpo ma il viso no perché entra appunto in un processo di significanza e soggettivazione pagina 225 il viso è una superficie tratti, linee, rughe del viso, viso lungo, quadrato, triangolare il viso è una carta ma si deve anche dire che quando appare il viso questo è molto importante quando appare il viso il corpo viene surcodificato dal viso e cessa di essere corpo allora quindi abbiamo un momento in cui c'è il corpo e la testa e il viso non c'è poi ad un certo punto appare il dispositivo del viso quando appare il dispositivo del viso il corpo cessa di essere corpo e diventa viso viene surcodificato nel viso tutto diventa viso tutto quanto viene surcodificato dal viso significa che noi smariremo il rapporto con il corpo del corpo ci interesserà sempre di meno ma sarà quel viso a essere il tutto a cui si farà riferimento non è una questione di antropomorfismo questo non è che la mano, il piede o che ne so la pancia diventino simili al viso no, no, assolutamente no ma è come dicono a pagina 226 il corpo passa attraverso la superficie bucata mediante un'operazione molto più inconscia e macchinica in cui il viso svolge il ruolo non di modello o di immagine ma di surcodificazione per tutte le parti decodificate decodificazione di tutte le parti del corpo surcodificazione di tutte queste parti nel viso il viso non è quindi una parte del corpo ma funziona in modo diverso e cosa mette in moto la macchina della visificazione? allora il viso non è un dato non è carne non è sangue non è qualcosa che appare quando appare l'organismo o perché appare l'organismo il viso quindi non è qualcosa che è dato a prioristicamente per far sì che l'uomo possa esistere non appartiene ad esempio all'animale non è qualcosa che appartiene necessariamente l'animale non ha viso il vegetale non ha viso il viso appartiene all'uomo ma ecco inizia a essere uno di quei tratti inumani che però rendono possibile l'umanità dell'uomo che però rendono possibile proprio l'uomo ma d'altra parte potrebbe anche non esserci mai stato o c'è stato un momento in cui non c'era all'uomo e nell'uomo accade il viso così come accade la ragione così come accade il sapere così come accade la metafisica ma cosa significa tutto ciò? significa che questo poteva anche non accadere ad esempio però nel momento stesso in cui è accaduto il viso diventa sicuramente il tratto caratteristico dell'inumano umano dall'anno zero in poi e probabilmente il viso è quanto di più inumano c'è nell'umano dicono proprio ad un certo punto Deleuze e Guattari quindi fatta un po' questa premessa cerchiamo di andare un po' avanti quindi il viso ci ossessiona il viso è ovunque noi oggi come oggi siamo circondati dalla visificazione a partire dalle foto del profilo alle carte d'identità ai documenti quindi che abbiamo alle foto che costantemente ci facciamo alle foto a cui costantemente facciamo riferimento quando pensiamo agli altri alle foto del profilo degli altri che cerchiamo ad esempio su internet quando abbiamo necessità di parlare con altri alle foto del profilo di altri che cerchiamo su altri dispositivi alle foto di attori il volto dell'attore il volto del personaggio noto il volto del politico il volto del politico sul manifesto il volto del politico che compare in televisione il volto rassicurante del presentatore televisivo il volto della madre il volto del padre il volto della donna amata il volto dell'uomo amato il volto del tiranno il volto del dittatore ecco tutte ridondanze della viseificazione tutte ridondanze di una inumanità beh probabilmente se tutto questo è inumano dicono ad un certo punto dell'ese Guattari se tutto questo è inumano allora significa che se l'uomo ha un compito ha un destino ma si può mettere così un po' scherzosamente ma se l'uomo ha un destino è quello di disfarsi del viso ma di quale viso se vogliamo andare nello specifico beh del viso che gli è stato cucito addosso significa che se l'uomo ha un compito è quello di disfarsi del viso che gli è stato organizzato addosso così come deve disfarsi del corpo così come il corpo senza organi deve disfarsi del corpo organizzato allo stesso modo possiamo dire che se l'uomo ha un compito è quello di disfarsi del viso che gli è stato organizzato addosso e questo significa in Deleuze e in Guattari l'assunzione del divenire i vari divenire impercettibile divenire animale divenire inumano divenire vegetale sono tutti quanti divenire capaci di superare il muro di sfondare il muro quale muro? l'abbiamo visto il muro bianco della significazione il muro bianco dove vanno incollati appesi, inchiodati i vari segni della significazione che porteranno a poco a poco a disfarsi dei tratti stessi della viseità sottraendosi a questa organizzazione del viso qua c'è una bellissima citazione che vale la pena di leggere perché ci fa capire proprio cioè qua si parla proprio della rottura del muro è un passaggio di Miller da Tropico del Capricorno lentigini che filano all'orizzonte capelli mossi dal vento occhi che traverseremo invece di guardarci in essi o di guardarli nel cupo faccia a faccia delle soggettività significanti non guardo più negli occhi della donna che tengo fra le braccia ma li attraverso nuotando testa, braccia e gambe interamente e vedo che dietro le orbite di quegli occhi si estende un mondo inesplorato mondo delle cose future e da questo mondo ogni logica è assente quindi qua abbiamo superato il buco nero della soggettivazione e della significazione gli occhi non mi servono più per guardare altri occhi ma per attraversarli attraversare gli occhi e poi dice proprio poco dopo ho infranto il muro ecco qua quindi prima buco nero e poi muro e se ho infranto il muro e se ho infranto il muro della significazione gli occhi come dice la citazione non mi servono più a nulla poiché non mi rinviano altro che immagini già note quale immagini? quelle della significazione quelle dove i segni sono organizzati sono posti in una scacchiera e questo ci rassicura ovviamente sì questo ci rassicura il mio intero corpo deve divenire perpetuo raggio di luce questo raggio di luce ci richiama a tante cose di cui parlano spesso delle eseguattari muovendosi a una velocità sempre maggiore e qui entra il problema della velocità senza tregua senza ritorno senza debolezza sigillo quindi le mie orecchie i miei occhi le mie labbra allora questa citazione chiarisce perfettamente quanto abbiamo detto fino a questo punto spero perché a parte che la citazione è molto bella di un testo labirintico comunque al di là che appunto di Miller se ne può parlare se ne è già parlato ma se ne può parlare in modo molto più approfondito di quello che si deve fare qui si può andare un po' un po' avanti rispetto a questo punto e qui Deleuze e Guattari fanno un attimo riferimento a Lacan sulla questione dello specchio e a Sartre sulla questione dello sguardo e dicono che tanto Lacan quanto Sartre si sono mossi su due territori secondari rispetto a quelli ecco più radicali alla radice del problema perché Lacan è lo specchio va bene ma lo specchio non è forse in seconda posizione rispetto al muro bianco della visificazione e così lo sguardo lo sguardo non è in seconda posizione rispetto al buco nero degli occhi senza sguardo e allora anche qui ritorna il discorso del CSO del corpo senza organi preso però in un'altra prospettiva abbiamo detto del corpo come sommatoria di organi cioè come se ci fosse una sorta di tagliatore folle che poi mette insieme tutto in questo caso avremmo il corpo alla Frankenstein cioè organi senza più corpo ed ecco perché arrivano alla conclusione che il corpo non è una questione di oggetti parziali non è una questione di tagliare di tagliare come se fosse appunto un tagliatore folle ma è una questione di velocità di velocità differenziale dove si muovono queste velocità differenziali sono i movimenti di deterritorializzazione e qui fanno il famoso esempio della mano che da locomotrice la mano che appunto ha contatto con il terreno con la terra per potersi muovere e quindi è impegnata in questo movimento con la terra ed è catturata e appunto territorializzata da questo movimento con la terra che però nello stesso tempo la cattura non gli permette di fare altro se la mano deve sostenere il corpo non può fare altro non può essere prensile allora deve deterritorializzarsi dalla terra per potersi riterritorializzare su altro ad esempio su questo divenire prensile e allora ecco se ragioniamo in questo senso tutto quello che abbiamo detto fino ad ora possiamo anche dire che la testa umana ad un certo punto subisce una deterritorializzazione rispetto alla testa animale nel momento in cui deve relazionarsi ad un ambiente deterritorializzato perché tagliato e organizzato allora potremmo ancora dire facendo un passaggio successivo che il viso è una deterritorializzazione ulteriore perché fa uscire totalmente la testa dallo strato dell'organismo strato dell'organismo strato di sapere dell'organismo ma per farla connettere e riterritorializzare su cosa abbiamo detto che la mano si deterritorializza dalla terra e quindi smette di essere sostegno smette di essere locomotrice per divenire prensile su qualcosa su un possibile mettiamolo così ecco la testa invece si deterritorializza dal corpo per riterritorializzarsi su cosa beh sulla significanza e sulla soggettivazione sul paesaggio come deterritorializzazione dell'ambiente e di fondo tutta quanta l'arte sacra è questo che cosa è l'arte sacra ora qua non si può aprire un capitolo sull'arte perché richiederebbe anche questo però di fondo tutta quanta l'arte sacra è questo relazione del viso col paesaggio disporre di un viso in relazione ad un paesaggio oppure il primo piano al cinema come buco nero di un muro bianco paesaggio ancora non c'è viso che non cieli in sé un paesaggio non c'è viso che non presupponga un paesaggio non c'è paesaggio che improvvisamente non veda calare un viso amato un viso sognato ma anche un viso avvenire un viso che non esiste ancora pagina 228 quale viso non ha invocato i paesaggi che amalgamava il mare e la montagna quale paesaggio non ha evocato il viso che l'avrebbe completato che gli avrebbe fornito il suo completamente inatteso di linee attratti anche quando diviene astratta la pittura non fa altro che ritrovare il buco nero ed il muro bianco vediamo come insistono su queste due categorie tela bianca taglio nero fontana per fare un esempio oppure Percival nel romanzo che vede del sangue nella neve e questo gli ricorda improvvisamente il viso della sua compagna il romanzo cortese che smarrisce il suo nome come anche nei romanzi di Kleist per esempio il principe di Homburg che è sempre in una fase di dormiveglia anzi se lo chiami si addormenta il principe di Homburg ha questa subito dislocazione inquietante potremmo anche dire il principe di Homburg è in genere se uno lo chiami si sveglia no il principe di Homburg se lo chiami si addormenta proprio ecco qua ed è un romanzo appunto fatto da questi personaggi perduti che non sanno più il loro nome non sanno quello che cercano è il romanzo cortese con il suo protagonista che non sa dove va come in Cartier-Anne-Detrois a una qualsiasi pagina dice Deleuze troverete un cavaliere catatonico in sella al suo cavallo appoggiato alla sua lancia che aspetta che vede nel paesaggio il viso della sua bella e che dovrete colpire affinché vi risponda pagina 229 allora qui in un modo molto schematico e schematicamente cerchiamo di farlo anche noi propongono quattro teoremi della deterritorializzazione però questa cosa deve far ragionare su un aspetto che appunto la deterritorializzazione non è qualcosa di dato una volta per tutte cioè che la deterritorializzazione non è un'unica cosa non è l'anarchia folle di Deleuze o di Guattari o l'anarchia folle di chiunque voglia intraprendere una deterritorializzazione così no che esistono diversi tipi di deterritorializzazione esistono le deterritorializzazioni che la deterritorializzazione non è una è sempre molteplice e soprattutto non è sempre non è da intendere sempre come mera anarchia come mera libertà ma è appunto qualcosa che si può intendere anche in in un'ottica diversa e che appunto presuppone presenta delle deterritorializzazioni relative e anche negative comunque abbiamo una prima deterritorializzazione che non è qualcosa di singolare chiaramente la deterritorializzazione questo è un primo punto primo teorema la deterritorializzazione non è qualcosa di singolare presuppone sempre due termini mano oggetto d'uso ok presuppone sempre due polarizzazioni poi la deterritorializzazione ha sia intensità che velocità di movimento e non sempre queste due cose coincidono quindi presuppone sempre due termini poi ha intensità e velocità di movimento e poi può essere terzo terzo teorema può essere relativa o assoluta una deterritorializzazione assoluta è quella della testa al viso di fatto c'è un passaggio di strato si esce dallo strato organico e si entra nello strato della significazione della significanza questa è una deterritorializzazione assoluta cioè cambia totalmente lo strato di sapere prima si configurava attraverso degli enunciati e dei quadri di visibilità di un determinato tipo organici al corpo dopo si organizzerà attraverso dei quadri di visibilità e degli enunciati strutturati sulla significanza e sul significante quarto teorema la macchina stratta non si effettua solo sui volti ma sugli oggetti stessi anche gli oggetti d'uso possono essere quindi viseificati ad esempio in un film possiamo dire che una casa un utensile un oggetto un vestito possono essere viseificati tutto può passare nello strato della viseificazione e quindi della significanza film horror la casa è un volto anzi è il volto per eccellenza potremmo dire addirittura ad esempio che in un determinato film horror il volto la viseificazione avvenga proprio sulla casa ci possono essere determinati film dove gli oggetti sono viseificati quindi questa macchina stratta non si effettua effettua proprio nel senso di effettuarsi non si attualizza ecco solo sui volti ma anche sugli oggetti stessi ora abbiamo detto che non sempre i concatenamenti passano per il viso ad esempio nelle società primitive non avevano una semiotica del significante ma erano presi in concatenamenti collettivi polivoci e corporei c'è un esempio c'è l'esempio di un film molto molto bello che che è Midsommar di Ari Aster che ci mostra proprio come il 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 concatenamento avvenga attraverso il corpo ed è un concatenamento molteplice al punto tale che ad un certo punto abbiamo la protagonista che soffre in due modi completamente diversi in un primo momento soffre di un dolore in modo individuale e poi entra in un villaggio insomma in una comunità appunto dove si organizzano tutta quanta una serie di rituali e entra in un concatenamento collettivo e a quel punto il dolore viene condiviso il piacere viene condiviso il riso viene condiviso eccetera eccetera ecco questi concatenamenti attuali invece della visificazione hanno un preciso punto di insorgenza che abbiamo detto si può prendere come esempio l'anno zero ma appunto poi passano nel viso materno ad esempio nel momento dell'allattamento potrebbe essere un punto di insorgenza o la passione che passa per il viso dell'amato il potere politico che passa per il viso del capo il potere del cinema che passa attraverso il viso dell'attore ma non è sempre stato così ecco questo mi premeva dire non è sempre stato così ad esempio quando si parla di concatenamenti collettivi si può tenere presente questa citazione a pagina 232 le organizzazioni di potere dello sciamano del guerriero del cacciatore fragili e precari sono tanto più spirituali quanto più passano per la corporeità per l'animalità per la vegetalità quindi ma cioè questi questi chiaramente sono esempi che si fanno ma la la situazione ovviamente è sempre più complessa comunque fatto sta che la cosa da tenere ben presente è che il viso non è un valore assoluto ma è un valore relativo ad un determinato momento il viso non è qualcosa che però da un certo punto in poi appartiene all'uomo bianco può appartenere o meno all'uomo bianco come dicono delle seguattarie ma è l'uomo bianco stesso il viso diventa l'uomo bianco stesso il viso è il Cristo è rotomania pura che si oppone alla ninfomania è rotomania che rimane casta perché non passa più per il corpo ma per il viso cioè qua chiaramente qua chiaramente giocano un po' però se il viso diventa il referente sommo di ogni configurazione di piacere di relazione e tutto il resto è chiaro che ormai abbiamo completamente cassato cioè cancellato la ninfomania che invece presupponeva e doveva presupporre il corpo e ci siamo e ci siamo riconfigurati tutto e tutti sul viso e allora se tutti i volti si organizzano attorno a determinate unità potremmo dire combinazioni di unità come ad esempio il viso di una famiglia borghese ecco che allora attraverso queste configurazioni del viso si possono cogliere determinate sfaccettature ad esempio in una famiglia borghese come si stava dicendo si potrebbe cogliere già nella viseificazione di un figlio per un determinato taglio della nuca o insomma di quello che vogliamo una specifica predisposizione per l'accademia militare cioè significa che nel momento stesso in cui si entra nella viseificazione quel volto che assorbe il corpo perché abbiamo detto il corpo non esiste più al punto tale che viene negato darà determinati enunciati e quadri di visibilità imporrà determinate prospettive che caleranno quel viso in determinati in determinate stereotipie potremmo addirittura dire quindi anno zero hanno zero viseificazione hanno zero cristo hanno zero volto che assorbe surcodifica abbiamo di tutto quanto il corpo ma se il viso diventa cristo allora gli umani devono essere viseificati ossia cristianizzati e l'arte si assume tale compito la macchina stratta di viseità del cristo per produrre tutte le unità diviso e non soltanto il viso del cristo ovviamente poi si imporrà come unità di misura di tutte le viseificazioni possibili ma viseifica il suo stesso corpo così come tutti i paesaggi nel quale compare e anche nella gestualità nel segno della croce è stato possibile triturare in tutti i sensi il viso e i processi di viseificazione quindi nel momento in cui appare il viso di cristo compare su tutti i paesaggi assorbe tutti quanti i colori potremmo anche dire assorbe tutte quante le linee ma allo stesso tempo tutta la gestualità il segno della croce compare il volto di cristo comunque cosa significa tutto questo diciamo così per non lasciare come sempre tutto un po' inastratto significa che il sistema buco nero e muro bianco è un modo per codificare lo avevamo detto con i postulati della linguistica attraverso la semantica e la sintassi si impone una scacchiera e qua è la stessa cosa come si fa per viseificare il paesaggio il gesto tutto questo che abbiamo detto e che è stato affidato all'arte tra l'altro è stato affidato all'arte anche perché nel medioevo c'era un alto grado di analfabetizzazione e quindi attraverso le immagini si diffondevano soprattutto alcune credenze e i miti i riti della cristianità anche perché pare che sia confermato o almeno alcuni storici lo sostenevano fino a qualche anno fa che persone che non sanno leggere e scrivere non solo hanno difficoltà o meglio sono impossibilitate a leggere e a scrivere ma anche nel capire un testo scritto se letto da un altro hanno maggiori difficoltà rispetto a persone che sanno leggere e scrivere e quindi la presenza di immagini nel medioevo è funzionale anche al fine di far assorbire con maggiore efficacia il messaggio che si voleva far passare e quindi si capisce perché l'arte si assuma questo compito cioè il compito di viseificare tutto cioè di far comparire il volto di Cristo ovunque abbiamo detto dai paesaggi ai colori a tutti i volti e soprattutto ai gesti ok questo fa sì che si vada ad imporre una scacchiera si costruisce una scacchiera come si costruisce questa scacchiera abbiamo detto con questa doppia pinza sistema buco nero e muro bianco quindi un modo per codificare e un modo per quadrettare uno spazio un modo quindi per disegnare arborescenze un modo per stabilire dicotomie per configurare appunto uno spazio della divisione uno spazio della codificazione quindi ma soprattutto la visificazione irradia in modo tale da rendere impermeabile rispetto all'esterno ogni possibilità di intrusione il fuori stesso viene bandito la visificazione agisce come un nucleo solare potremmo dire che non permette alcuna traccia di umidità dove tutto ciò che è umido evapora è dilegua e di fronte a tale viseità sole non deve essere possibile più alcuna macchina nomade non deve essere possibile più alcuna linea di rottura alcuna linea del fuori alcun fuori quindi questo significa anche che la visificazione pone impone uno schermo protettivo e lo stesso soggetto è possibile solo se si crea un buco nero che cattura tutti quanti gli scarti un buco nero degli occhi un buco nero che non lascia fuggire nulla ed ecco perché la stessa lingua e le stesse grammatiche sono possibili solo sotto il segno di un viso solo nell'orbita di un viso il buco nero deve catturare tutto e lo schermo proteggere e impedire il fuori chiaramente questi binarismi bionivocità del viso non sono identici a quelli del linguaggio io ho sovrapposto un po' per far capire perché se si capisce quel meccanismo si riesce a capire anche questo se si capisce che attraverso la semantica la sintassi la fonetica la morfologia si impone una scacchiera e si codifica un linguaggio ma il linguaggio in realtà fugge l'abbiamo visto con il poetico fugge sempre da questo allo stesso modo funziona per il viso più o meno questa cosa non in un modo perfettamente uguale ma operando per ridondanze reciproche ok ma tutto questo significa solo parzialmente quello che in realtà è il portato di questa rivoluzione dell'anno zero perché non tutte le formazioni sociali necessitano della viseità e ad un certo punto si produce il crollo di tutte le formazioni sociali e delle semiotiche primitive cioè nel senso che così come c'è stato il crollo delle semiotiche primitive polivoche rituali di corpi connessi a vantaggio di una semiotica della significanza e della soggettivazione ad un certo punto ci potrebbe essere anche il crollo di questa significanza e della soggettivazione in nome di un'altra riconfigurazione e qui rientra il diagramma e quindi la possibilità di ricombinare in un altro modo ok quindi che cosa hanno però di particolare significanza e soggettivazione che operano schiacciando ogni polivocità e procedono per biunivocizzazione ok procedono proprio per binarismi e biunivocità però devono schiacciare questo carattere polifonico ecco potremmo anche dire dei rituali dei corpi devono schiacciarli e allora come funziona tutto questo come procede tutto questo morte primo punto sono cinque punti sostanzialmente morte delle figure multidimensionali abbiamo detto la polivocità e la biunivocità vengono schiacciate dalla significanza dalla significazione e dalla soggettivazione poi abbiamo l'appiattimento di tutti i volumi poi abbiamo la subordinazione di tutte le linee terzo punto quarto punto quindi fine del carattere polifonico e quindi quinto punto se ne potrebbe dedurre a tutto questo nessun tratto rizomatico nessun tratto di rizoma allora questo ci fa capire che non c'è significanza e soggettivazione senza un concatenamento dispotico dispotico qua non deve farci pensare al tiranno non deve farci pensare al dittatore ma deve farci pensare che noi per poter esistere dobbiamo disporre nel mondo un determinato ordine perché altrimenti è il caos e quel caos cinqueta e allora si ha bisogno sempre di incasellare si ha bisogno sempre di produrre soggettivazioni e cosa comporta tutto questo comporta una disciplina una disciplina dei corpi che deve disfare in un certo qual modo la corporeità per come era appunto nei rituali polifonici polivoci eccetera eccetera in nome di un'organizzazione di un incasellamento e quindi si darà la caccia al divenire in nome dell'incasellamento perché adesso c'è bisogno di una sola sostanza di espressione quindi basta con il divenire il divenire diventa inquietante ed ecco perché delle seguatterie andranno a recuperare tutti i divenire possibili allora facciamo un altro salto così andiamo un po' più avanti e poi semmai piano piano ci avviamo pur un attimo alla conclusione quindi io penso che questo passaggio sia chiaro abbiamo visto che nella visita abbiamo muro bianco buco nero muro bianco significanza dove vengono inchiodati inchiodati fissati i segni i tratti di significazione e il buco nero dove passa invece viene catturata la luce della coscienza e la soggettivazione si costituiscono soggettivazioni e quindi dove si configura in tutto questo l'onnipotenza del significante ed è questo che grida questo dispositivo qui sarete inchiodati qui sarete inchiodati al muro bianco della significazione qui sarete catturati dal buco nero della soggettivazione questo è più o meno quello che grida e quindi cos'è questa macchina della viseificazione pagina 236 questa è un'altra citazione importante questa macchina è detta viseità perché è produzione sociale di viso perché opera una viseificazione di tutto il corpo abbiamo detto il corpo smette di essere corpo del piacere diventa erotomania diventa diventa viso e non diventa più corpo quindi riprendo la citazione perché opera una viseificazione di tutto il corpo dei suoi oggetti abbiamo detto la casa del film horror eccetera eccetera e di ciò che lo circonda una paesaggizzazione di tutti i mondi e di tutti gli ambienti la deterritorializzazione del corpo implica una riterritorializzazione sul viso qua lo dicono proprio chiaramente si deterritorializza il corpo per riterritorializzare il viso la decodificazione del corpo implica una surcodificazione mediante il viso decodificazione del corpo corpo che viene decodificato surcodificazione totale nel viso la semiotica del significante del soggettivo non passa mai per i corpi quindi prima non c'era ok è una solidità pretendere di mettere il significante in rapporto al corpo sarebbe possibile al limite soltanto con un corpo già del tutto biseificato e d'altra parte per Deleuze e Guattari la stessa maschera ha una funzione diversa rispetto a quella che si può a cui si pensano per esempio la maschera per noi è qualcosa per nascondere è qualcosa per dissimulare invece per Deleuze e Guattari la maschera è una strazione operata sul viso è la disumanizzazione del viso allora abbiamo detto che il viso allora abbiamo detto che il viso è la disumanizzazione della testa a sua volta il viso ha una sua disumanizzazione la maschera è la disumanizzazione del viso come avvengono questi procedimenti concatenamenti di potere abbiamo visto questo discorso il potere dall'informalità del potere il concatenamento azionamento di una macchina astratta di viseità quindi a questo punto sappiamo cosa significa muro bianco e buco nero e quindi codificazione installazione di una nuova semiotica di significanza e soggettivazione ma cosa significa tutto questo procedimento significa una cosa soltanto a questo punto che il viso è una politica non c'è significanza che non comporti processi di soggettivazione il viso è una politica che significa non c'è soggettivazione che non comporti processi di significanza è chiaro che avremo diverse mescolanze diverse combinatorie sulla viseità in base alla soggettivazione e alla significanza ne abbiamo sostanzialmente due cioè che cosa sto dicendo sto dicendo che esistono modi diversi in cui si possono combinare e relazionare il muro bianco e il buco nero ne tracciano tanti diciamo che i gruppi comunque sono sostanzialmente due allora primo punto o meglio chiamiamola così prima sequenza dove il muro bianco a essere esteso allora se c'è più un muro bianco e meno un buco nero degli occhi avremo una determinata configurazione questa configurazione la chiamiamo prima sequenza poi vedremo che c'è una seconda sequenza dove il muro bianco si assottiglia e gli occhi diventano grandi e il buco nero si ingigantisce però analizziamo un attimo la prima ma qua andiamo veloci perché se no ce ne usciamo da questo discorso dunque abbiamo la prima sequenza dove appunto il muro bianco è esteso è massimamente esteso e gli occhi sono come buchi neri piccoli però che però possono moltiplicarsi possono essere anche più buchi neri ma il muro bianco di fondo resta esteso il muro bianco è quello della significanza è quello dove si inchiodano i segni i tratti di significazione e questa è la struttura del primo piano cinematografico oppure il volto del Cristo bizantino questo è fondamentale capire questa cosa quindi da una parte possiamo avere questa combinatoria muro bianco esteso occhi piccoli che però possono moltiplicarsi da questo punto di vista la visificazione è frontale e dispotica ok quindi quando il muro bianco è esteso e gli occhi sono piccoli la visificazione è frontale e dispotica dispotica vedremo che invece nella seconda sequenza è di profilo non è frontale è di profilo ma è passionale allora abbiamo detto giusto per ricapitolare quest'ultimo passaggio abbiamo detto che ci sono diversi modi in cui si può combinare questa pinza che abbiamo richiamato anche la stratificazione del sapere da una parte può essere il muro bianco esteso se il muro bianco è esteso gli occhi sono piccoli questi occhi possono essere anche possono anche moltiplicarsi possono essere più di due ma questa prima struttura questa prima sequenza è quella del primo piano cinematografico oppure il volto del cristo bizantino quindi dove il volto la visificazione è frontale e dispotica poi abbiamo una seconda sequenza la seconda sequenza dove invece il muro ha da sottigliarsi e diventa come un filo il muro il muro bianco che si assottiglia diventa come un filo che gira attorno al buco nero e quindi qui non è più il primo piano non può più essere più il primo piano ma è il profilo è quello che loro chiamano il volto del cristo marino passionale e di profilo appunto e quindi allora non può esserci muro bianco senza buco nero non può esserci buco nero senza muro bianco ma di certo tutto questo si può combinare mostrando un paesaggio del viso dispotico oppure passionale marino quindi dal viso dispotico terrestre a quello passionale marino chiaro che questi sono due esempi ma in realtà può essere molto più complessa la questione allora come si popola questo muro bianco abbiamo detto che serve per codificare e qui c'è una citazione lunga che però ci fa ci fa capire precisamente quello che quello che vogliamo dire si parla di Proust del viso di Odette che rinvia tutta quanta una serie di cose allora è necessario che una cosa gli ricordi un'altra cosa in un reticolo di interpretazioni sotto il segno del significante un viso rinvia un paesaggio un viso deve ricordargli un quadro il particolare di un quadro una musica deve lasciare sfuggire una piccola frase che si connetta con il viso di Odette al punto che la frase è ormai soltanto un segnale vediamo come tutto quanto richiama questo viso la musica diventa solo un segnale la piccola frase musicale diventa un segnale un segno segno abbiamo detto il segno è qualcosa che rimanda a qualche altra cosa e a cosa rimanda al volto di Odette il viso rinvia un paesaggio un viso deve ricordargli un quadro tutto deve ricordargli qualcosa tutto deve ricordargli tutto gli ricorda questo viso continuiamo una musica deve sfuggire una piccola frase che si connette con il viso di Odette al punto che la frase è ormai un piccolo segnale il muro bianco si popola i buchi neri si distribuiscono tutto il dispositivo di significanza prepara il secondo movimento soggettivo passionale in cui si svilupperanno la gelosia la querulanza l'erotomania di suono ecco qua qui è un po' sintetizzato anche qui tutto questo procedimento dal dispositivo dispotico abbiamo visto primo piano con tutto quello che abbiamo detto Cristo frontale eccetera eccetera Cristo marino di profilo e passionale quindi il viso di Odette che precipita verso la linea della passione ok andiamo avanti e qui veramente ci avviamo ci avviamo alle conclusioni qui fanno una riflessione sulla letteratura che tra l'altro introdurrà quello che poi sarà il piano successivo è quello delle tre novelle dove veramente li parleranno di letteratura in modo ecco perché dicevamo all'inizio di questo microcorso che il plateau di fondo è un libro non solo di filosofia ma che è un libro di critica letteraria critica musicale analisi musicale di di linguistica insomma di di arte insomma di tutto e qui parlano del romanzo francese dicono non sarà il compito del romanzo francese capire come sfondare questo muro della significanza come uscire dal buco nero come disfare il viso non sono cose che appartengono alla letteratura francese perché si tratta di una letteratura ancora troppo pessimista forse forse pure troppo stanca di una letteratura troppo tramontante e che non riesce a trovare la linea di creazione della vita quindi non è compito di Proust dicono sostanzialmente c'è in Proust tutto questo l'abbiamo visto il passaggio da queste due strutture della visificazione ma non sarà compito della letteratura francese sfondare il muro dicono precipita i suoi personaggi nel buco li fa rimbalzare sul muro non riescono a sfondare il muro rimbalzano sul muro vengono catturati dal buco vengono fatti rimbalzare sul muro pagina 242 dicono questo e quindi la letteratura passa il suo tempo a fare il punto e si lancia in viaggi organizzati in viaggi codificati quei viaggi che non conoscono le linee di fughi i viaggi di Proust i viaggi che si fanno all'interno della research ma anche i viaggi che si fanno in altri romanzi sono viaggi codificati sono viaggi organizzati sono viaggi da agenzia neurotica che vuole controllare tutto che vuole disporre di tutto che vuole imporre una scacchiera non sono viaggi folli mentre tutto il contrario in quale letteratura vanno a pescare tutto questo nella letteratura americana letteratura americana con le sue linee di fuga appunto ai suoi viaggi folli dove si riescono a tracciare linee di fuga e dove i problemi appunto poi diventano altri attraversare uscire forare tracciare la linea e non il punto trovare una linea di fuga e seguirla fino al tradimento ricordiamo tutto il discorso del tradimento è chiaro che è difficile non è per nulla facile sfondare il muro disfare il volto si rischia di morire l'abbiamo visto la terribile linea del fuori la morte bobby dick non guardare più negli occhi ma traversarli in realtà a noi ci conviene guardare negli occhi c'è anche un piacere nel guardare negli occhi dell'altro attraversare il buco nero e nel traversare questo buco nero il corpo diventa un raggio di luce velocissimo in preda a un divenire capace di trascinare via tutto con sé ma capace di trascinare anche il soggetto la soggettivazione che non riesce più a respirare perché si rapporta proprio all'irrespirabile però solo così e solo mantenendo questo muro del significante ecco perché serve il muro del significante non è nel delirio che si trova tutto questo ma è proprio attraverso il muro del significante che si può andare verso la significante che si può andare verso la soggettivo verso il senza viso ora perdere il viso non è una cosa facile si rischia la follia soprattutto il viso è un'organizzazione potente è un'organizzazione che ci ha stabilizzato che ci ha rassicurato anche per anni è una garanzia e in quanto organizzazione e garanzia capta tutti i tratti di viseità tranne quando nel volto compare un tic il tic è proprio un tratto di viseità che non vuole cedere all'organizzazione in quanti film si mostrano questi personaggi magari con un tic ecco in quel caso quando il film poi bisognerebbe analizzare insomma ma ci sono dei film che possono funzionare in questo tipo il tic è proprio qualcosa che non vuole abbandonarsi alla sovranità del viso se il viso è una politica soprattutto anche questo tic questo disfare il viso sarà un'altra politica ricordiamo tra l'altro che lo stesso Wilhelm Reich allievo di Freud poi insomma si scontra scontro con Freud comunque lo stesso Reich considerava il viso e i tratti di viseità come uno dei primi mezzi della costruzione blindata del carattere della corazza del carattere ok ed ecco perché in tutto questo bisogna imparare a conoscere il muro bianco bisogna imparare a conoscere il buco nero solo conoscendoli si potranno tracciare delle linee di fuga ecco perché il muro del significante deve essere mantenuto perché solo attraverso la conoscenza della scacchiera che si impone no con la semantica la sintassi eccetera eccetera la si può attraversare altrimenti non la si può attraversare altrimenti si va nel delirio puro il tagliatore pazzo che poi fa organi senza un corpo l'altra faccia del corpo organizzato cioè l'altra cosa orrorifica del corpo organizzato il corpo organizzato è l'orrore ma anche l'organizzazione senza corpo è altrettanto no è Frankenstein è orrorifica quindi da una parte abbiamo il corpo organizzato e fa paura per tutta quanta una serie di motivi che penso abbiamo capito e stracapito ma d'altra parte abbiamo pure gli organi senza corpo messi assieme in modo casuale senza sapere che fanno altrettanto paura bisogna passare il muro della significanza bisogna attraversare il buco nero degli occhi solo così solo conoscendoli attraversandoli si può andare verso l'a significante verso l'a soggettivo verso il senza avviso altrimenti è anarchia pura che non serve a nulla ecco perché Deleuze in questo dicono bisogna essere molto cauti bisogna essere molto cauti e e anche in questo caso non si può tornare indietro non si può mai tornare indietro bisogna sempre andare avanti non si deve guardare a qualcosa del passato ad una configurazione passata dei corpi quando il corpo non era ancora deterritorializzato e riterritorializzato poi sul volto no non si può tornare indietro così si deve sempre andare avanti e questo è il grande pericolo un altro dei grandi pericoli è questo mito del ritorno ai selvaggi cioè il mito del ritorno a questa pura deterritorializzazione ed è proprio qui che Deleuze e Guattari invitano alla grande prudenza bisogna stare attenti cioè pensare che si possa ritornare al corpo prima della riterritorializzazione sul viso bisogna sfondare il muro non ritornare indietro Melville riesce a sfondare il muro Miller in parte riesce a sfondare il muro a superare il viso poi si smarrisce no anche Miller Miller ad esempio si smarrisce in questa linea creatrice in una sorta di nostalgia che è la nostalgia della casa Miller resta nella nevrosi si ancora al passato ad una scena infantile il pericolo è questo è quello di restare nella nevrosi sfondando il muro però poi si ritorna di nuovo a una triangolazione e quindi non si tratta di negare il significante assolutamente no ma di passare proprio per il muro del significante pagina 244 questa è fondamentale questa citazione è centrale solo attraverso il muro del significante si potranno far passare le linee di insignificanza che annullano ogni ricordo ogni rinvio ogni significazione possibile ogni interpretazione assegnabile come è chiaro qui devono annullare ogni ricordo ogni rinvio il problema di Miller qual è? si ancora all'infanzia si ancora al selvaggio soltanto nel viso dal fondo del suo buco nero e sul suo muro bianco si potranno liberare come uccelli i tratti di viserità non per tornare a una testa primitiva ecco qua non per tornare alla testa prima della riterritorializzazione sul viso ma per inventare le combinazioni in cui questi tratti si connettono con tratti paesaggistici a loro volta liberati dal paesaggio con tratti di pittoricità di musicalità liberati anch'essi dai loro codici rispettivi ecco questo è quello che abbiamo detto fino ad ora quindi si tratta di prendere il volto del Cristo e curvarlo in tutte le direzioni possibili ed è solo grazie ad immensi sforzi che si può sviluppare qualcosa sul piano di consistenza attraverso una deterritorializzazione positiva capace di formare nuove macchine astratte che soltanto ovviamente che soltanto in alcuni casi si riusciranno veramente a deviseificare di sfando la deviseificazione è come la deterritorializzazione bisogna deviseificare gli strati del sapere bucando i muri bianchi della significazione e sfuggendo dai buchi neri dove viene a catturarsi e dove cattura e si cattura la soggettivazione soltanto in alcuni casi ovviamente si riescono ad abbattere questi alberi per formare che cosa dei rizomi con flussi di deterritorializzazione creatrice e fughe creative ancora una volta un tratto di vespa con un tratto di orchidea apparentemente differenti ma in realtà sullo stesso piano di immanenza quindi tutto questo che cosa significa concludendo che la disumanità del mondo la visificazione del mondo la scacchiera che noi imponiamo sul mondo la semantica la sintassi il muro bianco il buco nero la visificazione delle cose ecco questa disumanità del mondo e della realtà non deve spaventare l'uomo è fatto da realtà inumane l'uomo è costituito da questa inumanità che diffonde nel mondo ma con gradazioni e velocità diverse diverse